Il tangolistico è una disciplina abbastanza nuova, c'è da 4-5 anni in Italia e in Europa e ha l'obiettivo di aiutare le persone a raggiungere un maggiore benessere in un modo strano perché non si impara a ballare tango, alcuni lo sanno già ballare, altri no, ma non sono interessati a impararlo ma si fa un lavoro energetico sulle nostre parti attiva e ricettiva perché nel tango l'uomo guida, la donna segue, noi nel tangolistico facciamo un po' tutti e due con l'idea che sia l'uomo che la donna abbiano le due parti, quella attiva forte dell'uomo e quella più ricettiva della donna, più sul piacere, più sul godimento facciamo un lavoro di equilibrio su queste due parti Il tangolistico è una disciplina che va bene per tutti la si può intendere in qualche misura terapeutica quando pensiamo alla parola terapia come io sono malato quindi ho bisogno di una medicina, di un trattamento ma soprattutto relativamente alla malattia che appartiene un po' a tutti se vogliamo chiamarla malattia che è la nevrosi, il disagio io lavoro moltissimo con persone che hanno disagi relazionali che hanno problemi di autostima, che hanno una decisione da prendere diverso è il discorso della tangoterapia in senso stretto che può essere rivolta a pazienti questa volta che possono avere un problema di Parkinson, un problema di Alzheimer eccetera è un lavoro che io faccio di meno io faccio un lavoro molto energetico nella danza a volte anche piuttosto forte che quindi stimola molto l'anima delle persone e tira fuori la luce che c'è dentro in modo a volte molto vigoroso e questo muove, emoziona, emoziona molto a volte mi chiedo e mi chiedono che cosa funzioni davvero nel tango olistico che cosa provochi questa sensazione di vitalità in realtà la risposta è piuttosto semplice nel tango, il tango argentino a cui mi ispiro c'è un contatto imprescindibile che è a livello molto alto a livello del petto che c'è sempre nei lavori che io propongo e questo contatto a livello del petto in questa zona prettamente relazionale che va a sviluppare mi viene da dire a incendiare la mia anima e a farla parlare e c'è quello che c'è naturalmente e quando io sento quello che c'è posso decidere anche di orientarmi e posso trovare la strada per stare meglio quello che succede quando noi ci stacchiamo è che questa scintilla in qualche modo si spegne quindi approfittiamo molto di questo contatto che è un contatto soprattutto molto alto grazie a tutti grazie a tutti